Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 15 novembre di Globus Television. Venerdì, 20 da nord e clima più freddo. Giornata con un tempo localmente instabile, cielo sereno o nuvoloso sui settori centro-settenzionali. Previste deboli pioggi nel Messinese. Temperature massime fino a 22 gradi, valori notturni in calo. Grazie a tutti.